Hai tra i 16 e i 35 anni, non segui alcun corso di studio, non hai le idee chiare su cosa vuoi fare da grande? Per info, benessere giovani, chiocciolacomune.grottaminarda.av.it oppure chiama il 320-2582-525. Governatore De Luca, le sembra giusto che si vivano questi tempi d'attesa disperati? Le sembra plausibile che soggetti con disabilità supportino questo ulteriore supplizio? È in attesa di una risposta Rocco Urciuoli, editore di Radio Punto Nuovo, ma soprattutto genitore in angoscia dinanzi alle sofferenze di un figlio. Sceglie il suo profilo Facebook per rivolgersi al commissario straordinario per la sanità in Campania e denunciare quanto segue, l'impossibilità per un ragazzo di 16 anni affetto da autismo di ricevere cure in tempi adeguati a scongiurare un calvario. Brian necessita di una sedazione e un successivo intervento di un dentista, forse perché non riesce ad assimilare bene il calcio soffre di carie e in attesa che quel dente venga curato e stirpato convive col dolore. Lo stesso della famiglia che ha provato a rivolgersi a dentisti privati che si rifiutano per paura. L'unica possibilità per il ragazzo è ricevere assistenza presso una struttura specializzata dell'ospedale Cardarelli. Ma la lista d'attesa non scorre. Ho provato anche a forzare la mano, rivela Orcioli, per aggiungere un attimo dopo mia moglie mi ha frenato ed è giusto così. Non sarebbe giusto scavalcare altri bambini e ragazzi che necessitano cure. La videodenuncia riceve numerosissime condivisioni attestati di solidarietà, ulteriori denunce nei commenti all'atere sulla sanità che non va. Ma quelle che Rocco Orcioli attende insieme a Brian, gli altri ragazzi in difficoltà e le loro famiglie, sono risposte concrete. Ecco uno stralcio del videomessaggio. Il tempo passa però, io non riesco più a gestire Brian. Brian sta soffrendo come un animale, perché il dente gli fa male e questa storia va avanti da mesi. Il presidente De Luca mi dia una risposta. Lo faccia magari se gradisce anche in video. Mi fa piacere sentirlo in televisione, ascoltarlo in televisione. Non le sembra che sia questo uno schifo. È tollerabile, è giusto. E lei, nella sua qualità, di commissario straordinario per la sanità in questa regione, come intende porre rimedio? Adesso io le sto chiedendo intimamente di risolvere un caso concreto, che è quello di mio figlio. Ma la esorto affinché questa situazione venga migliorata. Non è possibile avere questo tipo di procedura. Brian Urciuoli, 16 anni, a Iello del Sabato. Grazie a tutti.